Buongiorno a tutti, siamo a lunedì della ventisettesima settimana, la liturgia oggi ci presenta il Vangelo secondo Luca, il capitolo 10, in versetti dal 25 al 37. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese, Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello volendo giustificarsi disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù riprese, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, anche un levita giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo, abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose, chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse, va e anche tu fa così. Da una parte vediamo Gesù messo alla prova, c'è da capire se questo è davvero un maestro che segue le scritture, che segue la Torah, che segue la legge o se l'ennesimo conta chiacchiere che cerca di vendere qualcosa. Ed ecco che Gesù spiazza colui che lo sta mettendo alla prova perché conferma ciò che gli dice ma allo stesso tempo trova un'altra strada rispetto a quello che poteva essere la risposta che costui si aspettava. Perché? Perché a un certo punto questo giustificandosi cerca di trovare un'altra strada, cercava di mettere in scacco Gesù, ma Gesù ha rovesciato questa domanda. Perché? Perché la questione qual è? Quella vera è chi ha compassione. Cioè la domanda di quest'uomo è cosa devo fare per editare la vita eterna? Ecco che la vita eterna consiste in questa cura dei fratelli, in questa compassione che nasce dal cuore, perché di fatto è lo stesso cuore di Dio. La vita eterna è partecipare della misericordia che ha Dio, di questa sua cura, di questa sua capacità di piegarsi su ciò che è ferito e misero. In questo allora anche la parola compassione va molto in profondità, non è soltanto un sentire della pena per qualcuno, ma scende davvero nella profondità del cuore che si contrae, si piega, che soffre profondamente come le viscere di una madre che gestano una vita fino a doverla far nascere di nuovo. Ecco questa è la compassione che c'è dietro a questo brano. Ed ecco che questa stessa compassione è ciò che muove Gesù. È Gesù il buon samaritano che conosce bene le piaghe e le ferite dell'umanità e si china su di esse, che siano quelle del cuore, le sue durezze, che siano quelle del corpo, sanando i ciechi, gli zoppi, gli storpi, i malati. Ecco che allora più contempliamo in questo brano il modo di fare di Gesù che si fa vicino, ci fascia le ferite, ci versa la consolazione dell'olio e del vino, la guarigione dell'animo, del corpo e si fa carico, sollevaci Signore ambibietà di noi e lo porta in quell'albergo che è la chiesa. Ecco allora tutto il percorso trova un senso, trova una sua sensatezza, una sua bellezza che ci dona ancora tutta la ricchezza del Vangelo. Contempliamo ciò che il Signore ha fatto per noi con la sua compassione divina.